I migliori 10 titoli per Nintendo Switch aggiornati al 2023 Come ogni anno mi piace fare un po' il punto sulle varie console Questo sarà il primo video di una serie di contenuti che voglio portarvi Per essere in qualche modo utile a chiunque magari avesse preso una console da poco E non sapesse dove sbattere la testa Poi chiaramente anche quest'anno avremo una serie di top che in qualche modo vi accompagneranno Ma iniziamo con quelle dedicate alle singole console E oggi debutiamo proprio con Nintendo Switch Allora diciamo che Switch per quanto Nintendo ci abbia raccontato e ci racconti che è a metà del suo ciclo vitale Dovrebbe essere quasi alla fine Quindi questa top è particolarmente densa di capolavori Tanti sono i titoli usciti in questi anni e sceglierne solo 6 è stata un'impresa titanica Non sono in un ordine particolare Sono semplicemente 10 titoli straconsigliati Che ho messo in base a un gusto puramente personale Ma che credo rappresentino la selezione più ricca e diversificata possibile Dell'attuale catalogo Nintendo Switch Partirei appunto dalla mia decima posizione dove ho dovuto mettere per forza Astral Chain Opera di Platinum Games Che condivide il medesimo lead designer di Nier Automata E direi che si vede Titolo meravigliosamente sottovalutato nel corso di questi anni Ma che in realtà rappresenta una delle produzioni più intriganti Più riuscite Più originali Più stimolanti Del catalogo Switch A partire dalla sua direzione artistica Meravigliosa per arrivare a un gameplay Che offre sempre spunti particolarmente inediti È un prodotto che mi ha catturato e fatto innamorare all'epoca E tuttora lo consiglio di continuo Nono posto Super Smash Bros Ultimate Anche questo irrinunciabile Che lo si giochi da soli Che lo si giochi soprattutto in compagnia È uno di quei titoli che offrono ore e ore e ore di divertimento Senza limiti Lo puoi giocare una volta all'anno Lo puoi giocare tutti i giorni Ti divertirai sempre Allo stesso modo Perché è un prodotto che nasce da un concept meraviglioso Che è stato poi ripreso da tanti prodotti Non ultimo Multiversus Ma che nella sua forma originale Quella targata Nintendo Credo che non abbia veramente rivale Funziona e funzionerà sempre E oggi come oggi Resta uno dei prodotti più consigliabili del panorama Switch Ottavo posto Per una coppia di prodotti inevitabilmente Bayonetta 2 E soprattutto il suo più recente SQL Bayonetta 3 Prodotto meraviglioso Prodotti imperdibili Che in qualche modo riescono a dimostrare Che gli stylish action possono funzionare E alla grande Anche su una console non così all'avanguardia Dal punto di vista tecnico Come Switch Due avventure straordinarie Che riescono a offrire tantissimi spunti Che riescono a girare Meravigliosamente bene Su una console come Switch Che anche in termini di storia Direzione artistica E situazioni Veramente sono tra le migliori produzioni Che possiamo trovare Nel campo degli stylish action Poi settimo posto Chiaramente per Luigi's Mansion 3 È un titolo che fa della creatività Dell'originalità Della fantasia Della fantasia Le sue armi migliori Per cui è un gioco che ancora oggi Ricordo con piacere Che senza dubbio È stato tra le più belle esperienze Che abbia fatto su Switch Esattamente come il mio sesto posto Super Mario Odyssey Allora sapete bene che non sono un Fan accanito Dei platform Però Super Mario Odyssey È veramente la quintessenza Della ricchezza contenutistica Della varietà di situazioni Dei cambi di ritmo È un titolo che riesce Veramente a proporre Una molle di contenuti Sorprendente E tutti praticamente Dello stesso livello È un titolo che ancora oggi Rappresentano delle punti di diamante Della console Un titolo che ancora oggi Rappresentano dei motivi Per portarsi a casa Switch E non trovo realmente Alcun motivo Per sconsigliarlo A chiunque A prescindere dall'età A prescindere dai gusti Funziona E funzionerà sempre Questa forse è la vera Nintendo Difference Quinto posto Anche qui per una coppia Mario Rabbids Kingdom Battle O il più recente Sparks of Hope Sono due giochi di strategia Turni Che in qualche modo Riescono a unire perfettamente Il mondo di Super Mario Con quello dei Rabbids Quindi una fusione Che all'alba Dei due progetti Sarebbe stata Abbastanza improbabile Agli occhi di chiunque Ma che a conti fatti Si è rivelata Una delle cose più belle Su cui si sono posati I nostri occhi Negli ultimi anni Peraltro è un progetto Made in Italy E un brand Se vogliamo ormai Made in Italy Per cui devo dire Che sono particolarmente contento Di rinnovare Il mio interesse Verso questa coppia di prodotti E nella speranza Appunto Che possano Suscitare anche il vostro interesse Perché Ripeto Meritano veramente tanto Sia per il modo in cui Tutto è costruito Sia per una progressione Mai banale Sia per situazioni Che da un punto di vista Strategico Non sono poi così Semplici da affrontare Ma che appunto Potranno stimolare Anche eventuali appassionati Della categoria Poi quarto posto Qui ne ho dovuti mettere Tre di prodotti Perché è tutta L'epopea Di Xenoblade Chronicles A partire dalla Riedizione del primo capitolo Praticamente ristrutturato Per arrivare al più recente Xenoblade Chronicles 3 Che rappresenta anche esso Un JRPG Eterno Di cui credo si parlerà Per decenni E che ha dimostrato Quanto questa serie Per quanto confinata Al suo ecosistema Nintendo Switch Sia letteralmente Imperdibile Se amate I JRPG Con questi tre prodotti Avrete Praticamente Centinaia di ore A disposizione Per divertirvi Appassionarvi E vi stupirà Soprattutto il più recente Xenoblade Chronicles 3 Per la sua componente Tecnica Solamente pensare Che la stessa console Faccia coesistere Un titolo come Pokémon Scarlato e Violetto Xenoblade Chronicles 3 Risulta impossibile Eppure è realtà Ma appunto Fateli vostri Questi tre prodotti Perché sono Imperdibili E vi cattureranno Al punto Magari da scatenare In voi Che il JRPG Magari non l'avete mai Neanche considerati Un amore viscerale Per una categoria Di cui Switch è letteralmente Pieno Zeppo Tant'è Che il mio terzo posto È Un amore Mai supito Triangle Strategy Un titolo Che ha fatto Della ruolistica Il suo punto Di forza Ma che Offre tantissimi Spunti Perché? Perché Triangle Strategy Un gioco di strategia A turni Dalla grafica particolare Questo 2D HD Che ultimamente Sta conquistando Il cuore di molti Ma che riesce A unire a tutto questo Anche delle dinamiche Uniche Tipo La bilancia Che determina La progressione Dell'esperienza Una bilancia Che Diciamo Segnerà L'evoluzione Di una storia Che sarete Liberi di condizionare O di tentare Di condizionare A più riprese Gioco che racconta Una storia Meravigliosa Che offre una progressione Ricchissima di spunti E che propone Tantissimi personaggi Di cui vi innamorerete Peraltro In una storia Che è approfondita Anche da diversi elementi Di lore Che insomma Vi permetteranno Di entrare ancora di più In una esperienza Che ancora ricordo Con estremo piacere Ma Il secondo posto Non può Non andare A Shin Megami Tensei 5 Parlando Per l'appunto Di JRPG Come dimenticare Di quello che forse è stato Il più bel JRPG Degli ultimi anni Un titolo capace Di In qualche modo Di incarnare Quella che è L'essenza Dell'etichetta Di Shin Megami Tensei Ma A riproporla In chiave Sempre più ricca In chiave Sempre più stimolante In chiave Sempre più affascinante Perché oltre ad avere Una storia Veramente molto criptica Molto particolare Molto affascinante Il gioco offre Un gameplay Solidissimo Delle situazioni Molto impegnative Che queste si Metteranno a durissima prova Gli appassionati del genere Gioco che Onestamente Non mi sentirei di consigliare Come primo passo Nel mondo del JRPG Perché potrebbe risultare Un pochino tosto Ma se siete Un po' smaliziati È il gioco che fa per voi E chiudiamo Inevitabilmente Con il titolo Secondo me Più bello Da un punto di vista Generale Che si possa trovare Su Switch Che è ovviamente Zelda Breath of the Wild In attesa di Tears of the Kingdom Che arriverà a maggio Zelda Breath of the Wild È ancora oggi Il prodotto Più bello Che si possa giocare Su Switch Per mille motivi Atmosfera Gameplay Varietà di situazioni Ricchezza del contesto Progressione Mai banale Sempre imprevedibile Tantissime cose da fare In una realtà Veramente fiabesca Che vi saprà Conquistare Letteralmente Dai primi Cinque minuti Per poi regalarvi Decine di ore In cui potreste Concretamente perdervi In quello che è stato Messo a punto Dal team di sviluppo È un gioco Ancora oggi Riesce a risultare Attualissimo Nelle meccaniche Nelle dinamiche E nell'evoluzione Di una storia Indimenticabile Che forse Sarà superata Qualitativamente Parlando solo Da Tears of the Kingdom Quando avremo la fortuna Di poterci Finalmente Mettere sopra le mani Ma ripeto È uno di quei giochi Che valgono Letteralmente L'acquisto Della console Si giocasse Anche solo questo Poi Varebbe la pena Di portarsi a casa Switch Però ripeto Questa è una Selezione di 10 Prodotti Compresi poi Appunto SQL, prequel Eccetera Ma Che denotano Quanto Switch Sia cresciuta Come console Denotano Quanta Sia la varietà Al suo interno Ho omesso Diversi prodotti Per Racchiudere Quelli che Secondo me Fotografano Meglio la console E La mettono in luce Per quelle che sono Le sue assolute Potenzialità Ma Andando ad approfondire Il catalogo di Switch Vi accorgerete di Quanti siano i titoli Effettivamente Meritevoli Fra cui Anche vecchi classici Che potreste Aver visto altrove Che appunto Adesso potreste Voler giocare In portabilità Ma Ripeto Questo secondo me È il meglio Del meglio In questo momento Cercando di non seguire Tanto il gusto personale Ma Di prendere Veramente Quello che Generalmente Possiamo considerare Come migliore Tenendo anche Qualche chicca Tipo Astral Chain Che secondo me Arricchisce una selezione Con cui Potreste iniziare Il vostro percorso Su Switch Per cui ragazzi A questo punto Io vi saluto Vi invito a lasciare Un commento Indicando Quelli che sono I vostri preferiti Se c'è qualcosa Che secondo me Avrebbe assolutamente Meritato un posto Qui dentro Oppure se siete d'accordo Con la mia selezione Vi anticipo Peraltro che a breve Avremo la top Dei giochi PS5 La top Dei giochi Xbox E PC Chiaramente Ormai l'ecosistema È condiviso Quasi totalmente Per cui inutile Fare distinzioni E poi ci lasceremo Andare ad altre cose In qualche modo Per risultare Sempre utile Voglio che quest'anno Le top Siano L'essenza Dell'utilità Ecco Che possa in qualche modo Portarvi a conoscere Anche titoli Che magari potreste aver Perso O a recuperare qualcosa Che magari Volete giocare da un po' Per cui ragazzi Un abbraccio E noi ci vediamo Alla prossima E noi ci vediamo